Matteo partiamo da questo premio dedicato dal Panathlon International ad Adriano Gagliani Lo ritiri tu, Monza Esedocca, è stata una scelta proprio del senatore Sì, purtroppo non è potuto esserci, stasera aveva degli impegni molto importanti Ha fidato me come suo vice a ritirare questo premio Sono molto contento sia per il premio che per tutto il Monza di essere qua Parliamo invece di campo, domenica scorsa una prova maiuscola da parte del Monza È arrivata una vittoria forse anche un po' inaspettata contro la squadra più titolata d'Italia Ci racconti come è nato questo piccolo miracolo sportivo? Siamo stati bravi noi, dopo un inizio difficile, dopo il pareggio a Lecce Ci siamo detti noi squadra che era importante fare punti Abbiamo sfruttato l'occasione, poi la Juve è rimasta in dieci Abbiamo sfruttato anche questo con tutte le difficoltà che ha la Juve in questo momento Però siamo stati bravi noi a metterli in difficoltà, a segnare il gol e a tenercelo stretto il risultato Senti, da Mr. Stroppa a Mr. Paladino che cosa è cambiato? Tu che l'hai vissuto dal di dentro Alla fine i giocatori sono quelli che vanno in campo E purtroppo è sempre così Quando una squadra non riesce a fare risultati o comunque va male Chi va via poi è l'allenatore A noi tutti dispiaciuto, dispiace perché ha fatto un grande lavoro Ha portato il Monza in Serie A, il primo ad esserci riuscito E con noi stava facendo un grande lavoro Ovviamente hanno dovuto poi scegliere un altro mister E ha iniziato a lavorare con quelli che sono i suoi principi Lui è Filo Iuric, Filo Gasperini Quindi un po' diverso da quello che facevamo prima Stiamo cercando di adattarci il prima possibile tutti Per provare a portare in campo quello che ci chiede Mi hai già rubato la domanda da parte di un lettore Paolo Pozzi Che ti chiede, ma ci sono veramente delle somiglianze In palladino con mister Gasperini e mister Iuric? Sì, lui non lo nasconde Lo dice pubblicamente Ed è vero Capisce, ha capito da giocatore, da allenatore Che facendo un certo tipo di gioco Si possono mettere in difficoltà tante squadre Soprattutto in Serie A E quello è il suo credo Noi l'abbiamo accolto E stiamo provando a fare quello che ci chiede Avevi conosciuto palladino ai tempi dello Spezia Intravedevi lui già questa prospettiva Che sarebbe poi diventato allenatore? Sì, lui l'ha sempre detto Studiava già da allenatore Eravamo insieme che aveva 33-34 anni Mi sembra a Spezia Eravamo in camera insieme tra l'altro E poi è nata una bella amicizia Infatti sono contento di poterlo avere come mister Non dovrò più guardarlo come amico Ma come mister adesso Senti, notizia di questi giorni La rescissione del contratto di Andrea Ranocchia Non capita tutti i giorni Che un giocatore decida di rescindere il proprio contratto A causa di un infortunio È una decisione che giustamente il Monza ha apprezzato Volevo chiederti da capitano Che messaggio vuoi mandare ad Andrea? No, gliel'abbiamo già mandato Perché gli abbiamo spiegato Che siamo tutti uniti come una famiglia Qualunque fosse stata la sua scelta Lui ha deciso di prendere questa scelta In tutta serenità Per le sue ragioni E noi con lui gli siamo vicini E aspettiamo Monzello Ho detto che verrà presto Ad abbracciarci tutti E ci spiegherà poi meglio lui Monza che ha una forte connotazione made in Italy È la squadra che ha impiegato più giocatori italiani È un vantaggio per voi Insomma, parlare una sola lingua Praticamente nello spogliatoio Matteo Sì, sicuramente è un vantaggio Io lo dico da sempre Che la lingua è importante Sia per l'allenatore Ma anche per noi compagni I pochi stranieri che abbiamo Parlano italiano molto bene E si sono uniti al gruppo molto facilmente Ho visto anche io le statistiche Proprio stamattina Siamo di gran lunga La squadra più italiana Del campionato E questo mi fa piacere E questo rispecchia quello che mi disse Galliani Quando mi telefonò quest'estate E mi disse Vogliamo una squadra di giovani italiani Vogliamo far bene E ci sta riuscendo A proposito di Italia Sei un po' dispiaciuto Di non essere stato convocato Ci hai parlato col CT Sì, sì Ci ho parlato Prima delle convocazioni Abbiamo avuto una chiacchierata Lui ha voluto lasciarmi un po' più di spazio Dopo l'infortunio Sa che comunque Queste due settimane di lavoro Per recuperare un infortunio Sono fondamentali E poi voleva Vista anche la situazione Del cambio di mister Insomma farci un po' Farno un po' prendere fiato Ed è questo Poi ho voluto provare altri ragazzi Sono contentissimo di questo Però comunque c'è C'è molto feeling col CT Ultima domanda C'è grande fermento Da parte dei tifosi del Monza Per la prossima trasferta Di Genova contro la Samp Già un migliaio di biglietti Per il settore ospiti venduti Insomma Monza sta rispondendo presente Insomma E anche grazie ai tuoi messaggi Sui social Che ti sei sempre appellato Alla gente di stare vicino a voi Ma sì Il Monza Da sempre ha avuto Lo zoccolo duro Dei tifosi Che L'ha seguito ovunque Io Anche da lontano Ho seguito il Monza In questi anni E vedevo sempre Quel gruppo di tifosi Che la seguiva ovunque Adesso si stanno godendo La Serie A Anche loro La tanta attesa Serie A Se la stanno godendo Stanno vedendo Degli stadi Che non avevano mai visto Col Monza In campo Probabilmente E questo ci fa piacere Saranno un migliaio Forse anche di più Sì Sicuramente Un migliaio e due Perché ci sono anche i miei genitori Però sì Siamo contenti di questo Grazie Matteo Grazie a voi Grazie a voi